cari bambini guardate i cartoni animati state sempre a casa avete voglia di ascoltare una nuova storia di divertirvi bene la casa il centro lettura della casa del fare assieme cerca la ha trovato la storia che cercavate voi il topo di campagna il topo di città una lettura animata per bambini dai 5 agli 8 anni lunedì 27 gennaio alle ore 18 come ho citato all'inizio presso il centro lettura della casa del fare assieme presso il distretto ansl bat in via Ettore Baldassarre l'ospedaletto perché di trani è ubicata la casa del fare assieme dove era presente l'ex farmacia che poi appunto è stata sostituita dal nostro dalla nostra casa del fare assieme mi raccomando accorrete numerosi anche se ci sono posti limitati la cosa più importante che dovete sapere cari bambini e che i primi 20 riceveranno un libricino in omaggio per prenotazioni potete contattare il numero 320 338 1928 e a conclusione di tutta questa di tutto questo discorso il servizio che offre il centro lettura della casa del fare assieme è un servizio di prestito libri ricordo inoltre che il centro lettura è aperto il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 sarete accolti anche in maniera molto simpatica e poi se avete voglia anche di bere far sorseggiare una buona un buon tè o una buona tisana c'è anche quello non vi preoccupate diciamo che non vi dico vi dico poco e nulla sulla storia a parte già come si capisce dal dalla copertina del video del topo di campagna del topo di città io insieme ad altri ragazzi e ragazze ci stiamo preparando per raccontare a voi cari bambini questa bella storiella che ricordo e concludo qui si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 18 lettura animata per bambini dai 5 agli 8 anni presso il centro lettura della casa del fare assieme mi raccomando posti limitati prenotatevi subito numero che tra poco vi dirò di nuovo i primi 20 bambini riceveranno un libro in omaggio e dovete contattare questo numero 3 2 0 3 3 8 1 9 2 8 centro lettura della casa del fare assieme ubicata in via baldassarre 72 ospedale ex ospedale patrani ubicata nella posizione in cui c'era la farmacia lì ci siamo noi bene non rimanete dunque a casa a vedere i cartoni animati uscite veniteci a trovare che vi divertirete parola di nicola e anche di tutti gli altri che ci stiamo preparando per la storiella non mancate